Bella vecchi trapani ben tornati al più sul canale Grazie a tutti siamo tornati con una nuova challenge Che non è un nuovo ma è una E non solo io, io Diciamo che l'abbiamo riproposta Perché vi è piaciuta Ed è quella di imitare le vostre facce Abbiamo fatto un post sulla pagina facebook E per chi non l'avesse visto Molto tempo fa l'abbiamo fatto Perché passò tanto tempo e poi ci siamo ricordati Che dovevamo fare questo video Esattamente E per chi non l'avesse visto mettete mi piace alla pagina facebook Perché non l'avete visto per quello E quindi mettete mi piace alla pagina facebook Dove ovviamente ogni tanto faremo queste cose Ma non è un video per pubblicitare la pagina facebook Ma abbiamo fatto un post sulla pagina facebook Dove abbiamo detto La pagina facebook è ok Dove abbiamo detto Commentate con delle facce Fatevi delle foto con delle facce strane Nella pagina facebook Sempre la pagina facebook è qua sotto in descrizione Allora il primo è Nicolo Massone Sì che la faccia è abbastanza È tipo Ma pare tipo mezzo Undertaker Pronto? Vai 3 2 2 1 No spero non riesco a fare l'occhi E l'occhi Non si sta così Vabbè è complicata comunque Eh sì Più che altro l'occhi Cioè a me stanno troppo a far male l'occhi Lo peccato te non hai tirato fuori i denti Ti hai fatto così Ho fatto così E non c'erano i denti Ecco io Vabbè Lo ho al cartolo Comunque passiamo al prossimo che è il mio preferito Non funziona così peccato Sì Però il mio preferito è questo Secondo me la faccia più bella Ma che cazzo? Ma l'ha modificata? E questo è Davide Benedetti Sì che salutiamo Saludiamo Perché sta sempre al campo Eeeh E l'hai modificata la foto E qui è difficile Deve fare il doppio vento Questo è un quadruplo vento Cioè non è il doppio vento È un quadruplo vento Cioè tipo lunghissimo Ah perché tipo Sono fotografato da sopra Capito? Non mi pare che sì Aspetta ma io ci riesco Guarda io ho il colletto d'agamici Aspetta Ehm Ehm Sono ben in campo Sto abbiamo una meccatura Ah Mamma mia Tanji auguri Tanji auguri Davide Perché ce l'hai scritto dietro Nella foto Passiamo al prossimo Che incredibilmente è Fabiano Gallo Oh Oh Perché Gallo Ah Vabbè E Ma che cazzo non so perché ho detto così Che tipo rullo di taburi fabbio gallo incredibile vabbè fabbio gallo che ci fa questa faccia che è facile perchè è questa è vero che il tipo si incrociano e si arriva di così oddio non è faldo se mi stava sempre a mangiare gli occhi e poi si girano da soli che vero ma ora faccio tutto il video così la nostra immagine ce la fa esattamente questa dove vedi normale federico lombardi che la faccia l'ha detto sopra la mano in alto a sinistra federico lombardi che ci fa la faccia oh ma... nooo c'ha tipo l'occhi così c'aveva tutto il video così c'ha l'occhi a tomb rider e incrociati federico lombardi che ci fa una faccia che penso sia... ah goglione così ah goglione cioè sembra che dice questo ah goglione eh con l'occhi tipo sparati tipo allora eh so perchè poi non so tutte e due storti cioè uno è dritto uno è storto e uno è d asper ok ora basta perchè fanno male con queste facce c'è però io non saprò dove metterla dove la colloco qua a mezzo qua tipo teletubbies faccio si le colloco qui la fai qua e poi le alloco qui vabbè vaffanculo la prossima faccia è di Giacomo Angelelli bello vedo che condividiamo il problema dei capelli e te si che è quella oddio calcola porco dici sono rimasto troppo tempo con gli occhi incrociati e come si fa questa? questa si fa così le canciano parola che è una lingua eh pesce fuor d'acqua ma che cazzo stai dire? la donna, la donna, la donna.. la donna, la donna, la donna la donna, la donna la donna la donna ci fa la pinna la no ora c'è una scimmia ahahahah Cleandro Orfini, lei è una scimmia Chi sta io non viene? Sembra piccata Tarzan, calcola Mi ha presa una parescia la bocca La prossima, oddio Non ho capito Come cazzo fa? La prossima è di Marisa Bortoletto ma non abbiamo capito come si fa Aspetta tipo così Tutte modificate con queste foto Così? Cosa ci sta? Lascia perdere si Non è così Questa pare una faccia ammiccante però brutta 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 Non è così Ciao Non ho capito numero Scusa Un occhio guarda da lì Si ma tu calcola che ci sta anche l'effetto capelli lunghi qua E dobbiamo mettere una mano avanti così per fare l'effetto capelli lunghi E si capoletta Capoletta Tutti e due guardano da lì E tutti e due la mano di viso No aspetta Aspetta no dobbiamo impegnarci nel fare questa Vabbè fammo finta cazzo ma va Vai C'è stata non c'è stata Sarà un tipo fatta malissimo questa Un tipo fatta male male Però ok Ragazzi Le facce sono state fatte male Secondo me malissimo Ma sono state fatte A tratti malissimo Si però ci sono quindi Se vi è piaciuto questo video lasciamo 5000 like E noi ci becchiamo al prossimo Ricordate di mettere un like alla pagina facebook Sotto ci sono anche i nostri instagram E se vi è piaciuto questo video iscrivetevi anche al canale Se non lo avete ancora fatto Ci becchiamo al prossimo video Canale Al terzo episodio di Imitando le vostre facce Ciao Canale